Allora, del ritiro mi è piaciuto tutto perché era proprio tutto, tutto, tutto bello, magico e tutto. Il gruppo, tantissimo, questa empatia che si è formato nel gruppo, eppure eravamo persone che non ci conoscevamo affatto, e poi non è stato un puro caso che abbiamo formato questo, che si è formato questo gruppo perché abbiamo visto molti aspetti che ci uniscono, e quindi è stato bellissimo, poi si è creata proprio una bella empatia, bellissima, 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 tanto amore tra di noi, come se ci conoscessimo da una vita, bellissimo. Questo seminario lo consiglierei perché veramente serve a direzionare la tua vita, la tua vita, proprio tua, ma anche lo scopo, il perché sei venuto, il perché sei nato, che cosa sei venuto a fare sul pianeta. È proprio direzione in un modo incredibile, veramente utile a tutti, tutti, principianti, non principianti, a tutti. Ho lasciato andare ancora dei blocchi che non pensavo di avere, e mi è proprio servito tanto, 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 proprio. Ho lasciato andare ancora, penso proprio adesso di poter partire, adesso verso obiettivi, altri obiettivi più grandi. In questo seminario ho avuto anche particolari rivelazioni, intuizioni, grazie anche a questi posti molto energetici che ci sono, e magici, lo direi, veramente grandi rivelazioni, ed è stato di un'utilità incredibile, veramente ringrazio di essere stata qua in questi giorni. In particolare questo seminario mi è piaciuto perché abbiamo vissuto tantissime esperienze, ma in un viaggio itinerante, conoscendo posti nuovi, molto, molto belli, energetici, ma si è creata la metafora itinerante dell'esperienza, che non pensavo proprio minimamente si potesse fare una cosa del genere, ed è stata bellissima questa, proprio bella, un bel seminario, veramente. Allora, di tutta questa esperienza mi porto a casa proprio esattamente quello che io volevo e cercavo. Quindi proprio al massimo, proprio al 100% quello che io volevo, volevo proprio direzionarmi, trovare la direzione verso così, lo scopo della vita, anche perché ho già i miei anni, quindi devo averle idee chiare su questo. e ho ricevuto tutte le risposte immaginabili possibili e sono felicissima. E ringrazio Patrizia per questo e il gruppo. Veramente vado a casa con tutto quello, con un tesoro enorme, ecco. Vado a casa con un grande tesoro, proprio quello che io ho cercato. È poco dire grazie a Patrizia, ma lo dico in un altro modo, che forse, allora, grazie fino agli infiniti confini dell'universo a Patrizia per questo grande dono che ho ricevuto, il più grande che io potessi ottenere, ricevere. Grazie, 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 grazie.